buonasera benvenuti anche oggi alla nuova puntata di mondial casa e media shopping una vasta quantità di prodotti eccezionali a vostra disposizione si venite a guardare i nostri prodotti della sera abbiamo una vasta quantità di chips stella e un kinder deliz twist cast kiss cost aranciata fanta pompelmo abbiamo anche delle bellissime morbidelli spedari torroncini e svevacqua e red bulls a voi anche una vasta scelta di questi prodotti al costo di due 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 una vendi una vendi una vendi una vendi abbiamo anche tramezzini a quanto pare insalatissime al gusto di tonno e tonno e olive guardate i pisselli pisselli fagioli che fanno andare a fare la cacca al gusto di melanzana si abbiamo anche mars tuc guardate tuc mars slim cars al gusto di arachibi bene le mettete di qua per favore abbiamo anche gelati so che inverno proprio degli idioti goditi limonissimi magnum 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 e' che hai conosciuto magnum magnum guardate magnium cucciolone classico cornetto alcita guardate giu giu&ge budchi giu&ge 3 dicio e siamo arrivati alla fine control di a casa insi una vasta quantità di prodotti abbiamo anche bellissimi durex guardate 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 i durex cioè vi rendete conto in queste località vendono i durex me non lo so questi infami 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 guardate tu cioè si possono vendere questi prodotti sul mondo a casa no vabbè io chiamo mondi a casa e dico cioè non lo so se è possibile vendere questi prodotti il tifu il tifu guardate 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 i milk i milk sono di durex ma come si faccia per i preservativi in della magnetta in della magnetta ma non lo so non lo so s'andallo s'andallo o s'andallo o s'andallo o s'andallo o sto comprando avada vada la parte stessa questa è una questa quantità quindi una 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 si mi parla guardate 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 tengo lucafì 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 guardate lucafì il caffì guardate anche oggi mandi a casa insieme a media shopping vi augura una buona serata e vi stangate a fare sesso stress muscoli scegliete una vostra notita di durex a vostra disposizione si a soli 250 guardate guardate vi sentite vi sentite stanchi sentite ammosciati scegliete kinder kinder cioccolato viene anche le forze ed energia anche oggi media shopping vi auguro una buona giornata e una buona serata a lei studio